L'appello è rivolto al Premier Giuseppe Conte e al Presidente della Regione Donato Toma. Senza una superstrada a quattro corsie, il Molise non ha futuro. E ancora, serve una sanità dignitosa che eviti i viaggi della speranza. L'ultimo è di qualche ora fa, l'uomo di Cerce Maggiore, coinvolto nel drammatico impatto sulla Statale 17 nel territorio di Vinchiaturo, trasferito ad Ancona, appunto, il viaggio della speranza, perché al Cardarelli di Campobasso non c'è neurochirurgia. Infine, i misteri, patrimonio incredibile che la Regione non riconosce come valore assoluto. L'appello è dei consiglieri comunali di Campobasso, del Partito Democratico e della Sinistra, Antonio Battista, Bibiana Chierchia, Alessandra Salvatore e Giose Trivisonno, che hanno incontrato la stampa per tracciare, altresì, un bilancio dei primi sei mesi di opposizione a Palazzo San Giorgio. Partiamo da una frase, siamo sul New York Times, una frase che tutti i molisani pieni di orgoglio dicono, postano sui social. Noi però diciamo, siamo sul New York Times, ma in questa regione ancora manca una strada, una quattro corsie. Abbiamo fatto un lavoro nel 2019 e continueremo a farlo nel 2020. Le strade si chiamano arterie, senza l'arteria l'organo muore, siamo convinti che il Molise non avrà un futuro se non si doterà immediatamente di una strada a quattro corsie che possa rilanciare l'economia. Siamo sul New York Times, ma qui c'è ancora chi purtroppo è fatto di cronaca dell'altro ieri, deve mettersi in macchina nei viaggi della Speranza per poter pensare di essere curato su un problema di neurochirurgia. E questo è drammatico. L'elisoccorso, l'abbiamo parlato anche qui in Consiglio Comunale, abbiamo portato queste battaglie sulla sanità in Consiglio Comunale, non funziona di notte e noi abbiamo paura per noi e per tutti i cittadini molisani. Siamo sul New York Times, ci riempiamo la bocca di turismo, infine, ma ancora la Regione non riconosce ai misteri un valore assoluto che va finanziato a prescindere da bandi e concorsi vari. ...di prospettiva che può portare anche l'attenzione del movimento... ...